Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vorrei parlarvi del capitolo 986 di One Piece, spiegare cosa è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Finalmente questa tanto attesa guerra è iniziata, ma è iniziata in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. La copertina è un po' strana, speravo realmente in un lieto fine per Pound dopo la sua resurrezione, ma a quanto pare non è stato così, o almeno è questo quello che vuole farci credere il buon Oda, cioè Beige e compagni hanno abbandonato il povero Pound a Dressrosa e se la sono svignata. Davvero, non so dove voglio andare a parare il mangaka, non ci resta che aspettare e vedere, sono un po' curioso devo dire la verità. L'inizio del capitolo è un miscuglio di emozioni molto forti, infatti arrivano Kinemon e Denjiro dove si è tenuta la battaglia tra i foderi rossi e Kanjuro, dove possiamo anche confermare la sua morte, però sono sempre un po' titubante riguardo queste morti improvvise avvenute off screen. Il troll di Oda è sempre dietro l'angolo, naturalmente quelli che sono rimasti più scossi per la morte del loro ex amico sono coloro che hanno viaggiato insieme a Luni al Tempo. Sono sicuro che anche gli altri siano un po' rammaricati per l'accaduto, ma mai quanto loro. Bellissima la scena dell'incontro tra Kinemon e Izo, infatti non aspettavo altro. Però, prima di andare avanti, dobbiamo fermarci un attimo per parlare di due kosuche. La prima riguarda la neve, che viene sempre rimarcata da quando i rivoltosi sono giunti ad Onigashima, infatti sta ancora nevicando. Penso che ciò sia dovuto dal fatto che nella profezia si parlava di una luna ben vista nel cielo, ma come possiamo notare, il cielo è totalmente coperto dalle nuvole e la luna non è minimamente visibile. E soprattutto, senza la luna piena, i visoni non possono usare il loro asso nella manica, ovvero la forma Sulong. La seconda cosa, purtroppo, riguarda Izo. Io speravo in una spiegazione valida su perché questo personaggio non sia più ritornato a Wano, ed invece per ora non abbiamo saputo ancora niente. Però mai dire mai, spero davvero che il mangaka riesca a far raccontare tale cosa ad Izo e che giustifichi al meglio la sua assenza sull'isola dei samurai. Ma continuando con il capitolo, tutti i sottoposti di Orochi decidono di allearsi con l'imperatore, aggiungendo così 10.000 uomini alle schiere di Kaido, aumentando ancora di più il suo potere militare. Questi ultimi ovviamente buttano il loro onore da samurai nel cestino, tutto pur di non venire uccisi dal dragone. Infatti vediamo anche che Yogoro del Fiore si altera per via di questa cosa. Possiamo ancora notare la testa mozzata dello Shogun che giace al suolo, come se Oda volesse rimarcare tale cosa. Anche su di lui comunque non sono tanto convinto della sua morte. Confido ancora nel potere secondario del frutto dello Yamata Norochi. Ma spostandoci su cose un po' più serie, vediamo che Big Mom ha catturato Nami e Carrot, ma per fortuna Shinobu è riuscita a fuggire ed è intenzionata a salvare Momonosuke. E parlando proprio di quest'ultimo, Kaido gli fa una proposta. Se lui rivelasse il suo nome e questi non dovesse essere un Kozuki, verrebbe liberato e gli chiederebbe scusa per l'inconveniente. E se invece fosse realmente il figlio di Ode, beh, morirebbe per poter porre fine così alla vecchia Wano. E mentre il povero bambino cerca di pronunciare il suo nome, la scena si sposta da Rufi e Yamato, dove Cappello di Paya gli racconta tutta la verità, ovvero che i foderi rossi sono vivi e che quello sulla croce è realmente il figlio di Oden. E nel mentre Rufi usa il nuovo Aki dell'armatura superiore per togliere le manette a Yamato, e qui possiamo capire ben tre cose. La prima è che Cappello di Paya, a quanto pare, è riuscito realmente ad imparare ad usare tale Aki, e penso che con questo nuovo potere avrà avuto un power-up degno di nota, che si andrà a sommare con il power-up ricevuto a Walking Island, ovvero l'Aki della percezione superiore, che permette di vedere il futuro. Poi, come seconda cosa, capiamo che quelle manette non sono fatte di agalmatolite, infatti se fossero state di quel materiale, Rufi non sarebbe riuscito a levarle, perché dopo averle toccate perderebbe le forze e di conseguenza non riuscirebbe ad usare quel tipo di Aki. Ricordo come sempre che l'agalmatolite agisce solo sui fruttati, e non sull'Aki. E come terza cosa, capiamo che Yamato forse non è fruttato, dato che le manette non erano fatte di agalmatolite. Io vorrei davvero che non avesse nessun frutto, proprio per andare contro al pensiero del padre e della sua ciurma di fruttati. E questo pensiero di andare contro il padre è aumentato dopo aver scoperto che all'interno di quelle manette c'era davvero dell'esplosivo, e quindi se Yamato avesse lasciato Onigashima, sarebbe morto. Kaido best padre del 2020. Ironia a parte, dopo la scena delle manette, le cose iniziano a degenerare. Wuswu e Uruti avvistano Yamato e Rufi, e quindi sono pronti per entrare in scena. O almeno così sembrerebbe. Poi rivediamo Usopp e Chopper, che sono diretti all'esecuzione di Momonosuke, e l'arena vede che ci sono anche dei giganti. Ovviamente sappiamo di chi stia parlando, ovvero dei Numbers. Vi ricordate quando avevamo visto le ombre del popolo del cielo, e Usopp disse che era riuscito a sconfingerne ben 10? Beh, possibile che questa sua bugia si riveli esatta con la sconfitta dei Numbers, che dovrebbero essere appunto 10, sperando che anche Chopper abbia la sua parte di merito. Ma continuando con il capitolo, vediamo l'ascesa dei foderi rossi che si fanno strada togliendo di mezzo i sottoposti di Kaido, e rivediamo Lo, Kid e Zoro, dove questi ultimi due stanno sconfiggendo anche loro molti dei pirati delle bestie. Vediamo Trafalgar alquanto pulito. Ora non si capisce bene se stia o non nello stesso posto degli altri, ma sicuro è andato a fare qualcos'altro e continua a ripetere che lui è in combutta con Drake, per un qualche tipo di strategia che ha creato proprio quest'ultimo. Non vedo l'ora che le carte vengano scoperte, sono super gasato, ma da ora in poi le cose iniziano a farsi molto interessanti. Infatti Momonosuke rivela a tutti di essere realmente il figlio di Oden, facendo rimanere di stucco tutti i presenti, che non sapevano e non credevano a ciò. Ma un'esplosione distrugge quell'atmosfera di stupore, infatti tutto quel trambusto è stato causato dalle manette di Yamato, che sono esplose. E mentre quest'ultimo è pronto per fiondarsi contro suo padre, Rufi lo ferma, perché ha visto il futuro e sapeva benissimo che non toccava a Yamato combattere la battaglia finale. Ed infatti improvvisamente arrivano i foderi lossi da dietro, che riescono con una velocità incredibile a disarmare sia King, grazie a Iso, e sia Kaido, grazie a Nekomamushi. E tutti e nove, con una faccia super arrabbiata, una rabbia che si portano dentro chi da 20 anni e chi da meno, per via del viaggio nel tempo, attaccano Kaido tutti insieme, e il capitolo finisce qui. Gente, il finale mi ha lasciato di stucco. I foderi rossi hanno giocato il tutto e per tutto per poter sconfiggere l'imperatore in un solo attacco. Kaido inizialmente l'ha presa la leggera, ma nei foderi rossi ha visto Oden, colui che è riuscito a ferirlo, e lì, secondo me, ha avuto un attimo di tentennamento, per colpa della paura. Naturalmente non credo che sia stato sconfitto così presto, ma forse sono riusciti a ferirlo. Però la scena in sé per sé è fin troppo epica, e grazie ad essa la tanto attesa guerra ha finalmente inizio. E soprattutto, cosa vi ha ricordato la scena finale di questo capitolo? A me ha ricordato quando Barba Nera e Ciurma hanno dato il colpo di grazia a Barba Bianca, tutti insieme. Inoltre mancano ancora alcuni Mugiwara all'appello, tipo Sanji, che è possibile che abbia incontrato Black Maria, oppure Frankie e Brooke, che sono totalmente spariti da un bel po' di tempo. Posso solo immaginare che potrebbero o aver trovato il Rod Pognagriff di Kaido, o che Oda li stia conservando per farli apparire durante la guerra avviata per poter dare così manforte ai loro alleati. Il video è finito, seguitemi anche su Instagram se vi va, troverete il link in descrizione. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pampling, link in descrizione, ed usando il codice, il GUN91, avrete diritto al 20% di sconto. Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra a riguardo, non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Unity e Anime Tubers e noi ci sentiamo in un prossimo video.